Sembra una tipica giornata estiva, eppure è il primo novembre. Il bagno al mare non fa paura e si trova a chi sfida il tuffo fuori stagione. L'acqua comincia a essere bella freschetta, sì. Bella freschetta comincia a essere, sì. L'ha fatto lungo questo bagno? Sì, una mezz'oretta buona. Le temperature miti e il sole che riscadda fanno dare appuntamento in spiaggia per rigeneranti passeggiate. Un po' umido ma bello. Da quant'è che cammina? No, è un po' mezz'oretta ancora. Con indosso pantaloncini, maglie a maniche corti o canottiere, la sessione di allenamento è servita. Tra chi si tiene in forma correndo, c'è chi si diverte giocando tra amici una partita di padel. Quando si può, che è caldo, giochiamo fuori, perché qui è uno spettacolo. La spiaggia è bellissima, si sta bene, c'è il vento, c'è il sole. A beneficiare del clima della giornata sono anche gli amici a quattro zampe. Ho portato a fare una bella passeggiatira al mio cane, a mia cagnolila. È una bellissima giornata per passeggiare, sì. Si sta benissimo, da dove venite? Camerino. Il programma per oggi? Direto al mare poi a casa, forse in giro a Ancona, poi vediamo. A Palombina l'ondata di caldo del weekend non coglie impreparato il personale dello chalet, tra sdraie e gettonate e drink prima del pranzo. È l'ora dell'aperitivo? Eh sì, è una giornata bella. C'è il sole, finché c'è il sole va sempre molto bene. C'è movimento? Sì, c'è abbastanza movimento, non ci lamentiamo.